Lui, capocannoniere del campionato, fra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida. Un caloroso saluto dal vostro veloce parlo, dal mio compagno di viaggio Stefano Nava, la Premier. È di scena oggi con questa sfida davvero molto interessante. Le partite di questo campionato difficilmente venudono le attese, mi aspetto spettacolo ai gol. I protagonisti del match di oggi sono Crowley Town e Manchester United. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. A giudicare da quello che vedo direi che hanno nessun problema nel portiere. Lukaku. Dyer può contare sull'aiuto dei compagni. Pericolo, ecco il tiro. Super il portiere qui. Sarà calcio all'angolo per i Manchester United. Occhio al corner. Marcos Rocco. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si piega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e si è terminata largamente sul fondo. Ottimo intervento difensivo. C'è spazio. Pallone interessante. Occasione. Risultato che si sblocca subito dunque. Grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Che ritmo. E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Un replay che ci permette di apprezzare il bel movimento dell'attaccante. Un gioco da ragazzi. Metterla dentro da quella distanza. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Matiz. Possesso per lo United. Suarez. Occhio al traversone. Suarez. Cerca la sovrapposizione. Lukaku. L'attaccante si è letteralmente divorato il gol qui. E da quella distanza doveva almeno inquadrare la porta. Invece ha calciato abbondantemente sul fondo. Guadagna metri verso l'area. Buona l'idea qui. E nel rete. Ha trovato un effetto pazzesco. È un gol bellissimo. Ha infilato una palla impossibile, Pier. Hanno raddoppiato. Adesso sono avanti 2-0. Matiz. Suarez. Dyer. Occhio al suo movimento. Occhio a Lukaku. Inarrestabile Lukaku. Bravi qui a bloccare tutto. Occhio al suo movimento. Occhio al suo movimento. Occhio al suo movimento. Dyer. Si avvicina all'area. Attenzione, pericolo. Lukaku. C'è il fischio dell'arbitro. C'è la bandierina per il fuorigioco. Occhio al suo movimento. Occhio al suo movimento. Occhio al suo movimento. Pallone che torna tra i piedi dei giocatori del Manchester United. Matiz. Ecco Lukaku. Inarrestabile Lukaku. Perde palla. Buon pallone filtrante. E c'è la conclusione. Pallone fuori di poco. Ha riuscito lo stesso a calciare, nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Ci sono metri a disposizione. Matiz. Deviazione di testa innocua che non crea problemi al portiere. Intervento comodo il suo. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Punta l'area. Varagna metri. C'è spazio davanti. Prova a calciare. Palla ribattuta ma non è finita. Sventa qui la minaccia. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Lukaku. Grossa verso il centro. Comodamente. Recupera il pallone. Occhio alla ripartezza. Prova a far partire il tiro. Attaccata che era partito tutto solo verso la porta avversaria. Forse è arrivato un po' stanco al tiro. Aveva fatto tutto bene. La conclusione sarebbe stata una ripartenza perfetta. Matiz. Possesso per lo United. Si fa spazio. Occhio che guadagna metri. Palla molto interessante. Prova la botta. Sicuro. Neuer. Senta il pericolo. Ci saranno da recuperare tre minuti come mostra la lavagna del quarto uomo. La mette in mezzo con questo pallone. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si piega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e si è terminata largamente sul fondo. Comincia la seconda frazione di gara. Può avanzare. E' andato deciso e non c'è stato nulla da fare per il potere. davvero incontenibili. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. Bel passaggio. Bittencourt. Occhio cerca l'area di rigore. Perde palla. Punta la porta. Occasione. Parata straordinaria. Come un gol. C'è una doppia sostituzione, Pier. Occhio al corner. Attenzione perché c'è un... Prova a andare. Pogba. La gara si sta mettendo come nessuno probabilmente poteva immaginare. Sulla catta gli avversari avrebbero dovuto vincere facilmente. Bravi finora a ribaltare il pronostico. Ferma l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Bittencourt. Punta l'area. Attenzione pericolo. Coraggioso il tentativo dell'attaccante. Ballone che termina largamente sul fondo. E ci ha provato. Non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta. Da apprezzare comunque il coraggio e il gesto tecnico. Prova a spingere lo United lateralmente. Tillemans. Bittencourt. Ci sarà la rimessa dal fondo. L'appoggio di testa al compagno. Occhio al suo movimento. Ha un'autostrada a disposizione. Occhio al tiro. Non ha avuto l'istinto del killer. Questa era un'ottima occasione per segnare ma l'ha sciupata. Ci starà mangiando le mani Pierre. Davvero troppo brutta la conclusione per sperare di fare gol. Suarez. E-Sports vi offrirà la prossima gara casalinga di questa squadra impegnata in Premier League. C'è spazio per andare. Occhio al pallone filtrante. Attenzione pericolo. Spazzano via il pallone. Sarà fallo laterale. Buono l'1-2. Cerca il traversone. Attento qui il difensore che allontana. Pogba. Tillemars. Possesso per lo United. Grossa verso il centro. Splendida conclusione al volo dell'attaccante che forse meritava una sorte migliore. Ah decisamente Pierre. Peccato davvero se avrebbe stato un gol fantastico. I tifosi dimostrano comunque di aver apprezzato il tentativo. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Costa. Guadagna metri verso l'area. Intercettano bene il pallone. Lukaku. Pallone molto. Prova ad andare. Ed è gol. Rete. Hai riuscito a tenere il pallone basso. L'ha spedito in fondo alla rete. L'unica da fare per il portiere. Questo gol non sminuisce affatto l'ottima prestazione odierna del portiere avversario. Assolutamente no Pierre. Senza le sue parate i gol potevano essere molti di più. Siamo 3-1. Magari non finirà così. Hanno segnato ma difficilmente potranno riaprire la gara Stefano. Hanno approfittato di un calo di concentrazione degli avversari. Che evidentemente devono sentirsi già la vittoria in pugno. Conclusione incredibile da casa sua. Ha realizzato un gol pazzesco. Già è incredibile anche solo pensare di poter calciare da lì. Palla che è carambolata sul palo prima di finire in rete. Colpo da bigliato dell'attaccante con palla in buca d'angolo. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Siamo entrati negli ultimi 8 minuti di gara. Bittencourt. Dyer. Maragna Metri. Ferma l'azione e recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Manovra interrotta dagli avversari. Bittencourt. Pulpo pa. Ci sono metri a disposizione. Marcos Rocco. E il pallone se ne va via. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Saranno due minuti di recupero come indica chiaramente il quarto uomo. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Basta così. Arriva il pismo dell'arbitro. C'è stata una sola squadra in campo oggi. Può contare sull'aiuto dei... Doff. Ma a c'è stata una sola squadra in campo. Una piccola per il i interesi. Non possiamo poire. Lecola per il va via km Herman Sci-Doc. Grazie a tutti.